Si trova in una fase delicata la Regione Campania sul fronte dell'emergenza Covid. Se è vero che ha preso il via la vaccinazione dei bambini appartenenti alla fascia d'età 5-11 anni, dall'altro è anche vero che la risalita dei contagi è una realtà e da oggi lo è anche la riapertura delle terapie intensive. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento sui social del venerdì. Il Governatore non ha nascosto il rischio che, come nella fase più calda della pandemia, possano essere chiusi anche i reparti di degenza ordinari. Ieri la disposizione ai direttori generali di riaprire le terapie intensive, in particolare quelli presenti negli ospedali modulari realizzati a ridosso del lockdown. Buone notizie arrivano dalla campagna vaccinale. Ieri sono stati 2.000 bambini che si sono sottoposti alla somministrazione. 40.000 vaccinati totali solo nella giornata di ieri. Il commissario per l'emergenza Figliuolo ha annunciato proprio oggi che sono di prossima distribuzione altre 5 milioni di dosi.